Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video, io come sempre sono Aram e ci troveremo su Warframe Allora, quest'oggi voglio farvi vedere la mia build su Magprime che può essere tranquillamente usata anche su Mag normale ovviamente al momento non mi ricordo se Mag normale ha le stesse polarità di Magprime cosa che probabilmente non è identica e quindi magari se uno non vuole andare a farmare Magprime Magprime aggiunge i forma, va a polarizzare Magprime e Mag normale come è polarizzata Magprime ok, un po' di confusione, ma sono le due e mezza di notte io sto facendo un video abbastanza, come si potrebbe dire, non difficile però ci sono alcune cose da dire e bisogna essere chiari allora, partiamo con le abilità tenderò a fare questa cosa in ogni video solo per spiegare cos'è che fanno le abilità e su cosa scala e qualche dettaglio che prendo dalla wiki che sto guardando in questo momento dal tablet ve lo dico perché non me ne ricordo queste cose e quando gioco, spesso in tiri, gioco alla cazzo di cane se vedo che va tutto bene, me ne frego di tutte le altre cose non è che vado a prestare particolare attenzione a qualcos'altro allora, la prima abilità di Mag è il pull abilità che personalmente viene usata tantissimo io l'ho usata tantissimo perché è l'abilità su cui praticamente uno fa Mag e oltre all'ulti che è il crush insieme a shield polarize che è un'abilità che viene usata non tantissimo ma contro la fazione corpus è parecchio utile comunque, pull cos'è che fa pull? attrae i nemici verso di noi fa un danno magnetico quindi verso i nemici che soffrono il danno magnetico è perfetto quindi i corpus principalmente viene affetto il danno da power strength e il range da power range che strano questo lo vado a dire perché su Nova l'ultimo di Nova il range viene affetto dalla power strength quindi non tutte le abilità potrebbero essere così diciamo semplici da capire non tutti i scaling cos'altro? shield polarize il secondo magari scusatemi per la pronuncia ma vabbè capita che non sia perfetta cos'è che fa? ridà lo scudo a noi e ai nostri compagni non sto a dirvi dei percentuali perché potete andare tranquillamente solo a voi che a guarderle tutte quindi non sto qui a dirvi qualsiasi dato che vedo ma vi dico semplicemente che lo scudo che possiamo ridare viene affetto da power strength quindi se uno fa una build con power strength al massimo su mag avrà più scudo di quella che sto usando io che poi andiamo a vedere è davvero poco il mio power strength non è tantissimo non è pochissimo ma non è parecchio alto e il raggio viene ovviamente va a scalare su power range buller attractor è un'abilità che io personalmente non uso per il semplice motivo che spesso malentieri mag è usata per supporto è un warframe da supporto aiuta il team non va a fare danni non va a procurare quei big damage che ci si aspetta da altri warframe per completezza vi dico che il danno che viene e l'esplosione che crea l'abilità non è affetta da power strength quindi fate attenzione non andate a basare la build sulla terza abilità di mag se magari siete davvero pazzi la durata dell'abilità si basa su power duration e il raggio da power range ok ma non il raggio dell'esplosione ok potrei magari sbagliarmi perché sto leggendo di fretta non mi sono preparato questo video io ho spesso e volentieri improvviso quindi scusatemi come sempre controllate la wiki se ho sbagliato qualcosa scrivetemi nei commenti e aggiungerò qualcosina nella descrizione o sul video dipende dalla voglia che ho di fare l'ultima abilità l'ulti quella che considero l'ulti in qualsiasi warframe è crush crush cos'è che fa alza i nemici a mezz'aria e fa un tot di danno questo danno può essere minore di mille come può essere anche maggiore di mille questo danno questa abilità viene affetta da power strength il raggio da power range e il danno è magnetico come pull quindi nemici che soffrono il danno magnetico verranno diciamo shottati a livelli bassi a livelli più alti un po' meno ma comunque faremo quei bellissimi danni il danno non è istantaneo però lo scoprirete magari farò un video a parte in cui farò vedere come gioco mag io ok qua basta tecnicismi andiamo a vedere la build che uso io allora ho formato mag prime una sola volta dalla v come polarità ho messo il dash ok o slash non mi ricordo come lo chiamano in inglese comunque energy siphon che ci rigenera l'energia ok 0.6 che non è tanto ok ma spesso volentieri ci sono altri compagni a livelli bassi che la usano a livelli alti molto probabilmente uno non è stupido e va a usare corrosive projection perché va a usare corrosive projection corrosive projection al massimo adesso io non ce l'ho al massimo ma porta l'armatura dei nemici al 30% meno 30% di armatura questi l'aura per chi non lo sapesse stacca almeno credo una gran parte di aure staccano quindi se ci fosse 4 persone con corrosive projection l'armatura dei nemici diminuisce del devo fare del 90% mi sembra il massimo mi sembra che sia tipo 90% di armatura in meno che non è poco non è poco quindi perché no sono sicuro che è del 5% del 30% non me lo ricordo dovrebbe essere il 30% mi sembra aver visto comunque partiamo le stats le guardate le potete vedere direttamente qua duration non è utile su mag io non la trovo minimamente utile trovo molto più utile un'efficienza e il range perché questo perché io su mag uso critical un augment per l'abilità pull che permette come dice la descrizione di attrarre qualsiasi pick up ok quindi abbiamo un grandissimo range per attrarre qualsiasi pick up qualsiasi drop che c'è i drop quali sono risorse materiali materiali e risorse della stessa identica cosa munizioni globe di vita energia umana chiamateli come volete tutti attorno a noi cos'è che non cos'è che non può prendere la stupida energia diciamo che serve per gli excavator ok quando si va nelle missioni di excavation quelle non le attrae mentre nel survival riesce a prendere l'ossigeno tranquillamente quindi precisazione maxata la mod al 100% la possibilità di prendere qualsiasi cosa di quello che vi ho detto ok comunque ho detto range overextended maxata 90% range meno 60% power strength che a noi non ci interessa particolarmente che recuperiamo tranquillamente con transient fortitude più 45% maxata se non sbaglio è 55% di power strength e ci rimuove la durata cosa che a noi però non interessa particolarmente per il range andiamo a usare stretch più 45% ci dovrebbe essere se non sbaglio primed stretch che aumenta ancora di più il range se non sbaglio non mi ricordo se esiste io non ho una mod primed quindi questo video magari è molto stupido è il mio primo video su warframe scusate magari se sbaglio qualcosina ok altra cosa importante ho detto l'efficienza io sono andato a mettere fleeting expertise che ci aumenta l'efficienza ma ci diminuisce la durata cosa che comunque ho già detto non ce ne frega a meno a meno non frega streamline efficienza ancora più efficienza il cap è più 75% non possiamo andare oltre il 75% di efficienza quindi così abbiamo raggiunto già il cap siamo a posto il pull ci costerà tipo 7 di energia un globo ci da 25 quindi appena pulliamo e guadagniamo 25 di energia siamo già più che a posto per pullare quanto noi vogliamo flow per avere più energia possiamo avere quanto non lo dice 300 ok 300 di energia ed è sempre bene secondo me avere energia con mag che è un warframe di supporto io mi ci trovo bene potrei togliere flow per aggiungere una mod difensiva ovviamente se vado a mettere una mod difensiva probabilmente aggiungerei un forma non vorrei esagerare però sì i punti ci sono con questa build quindi probabilmente potrei togliere via flow mettere redirection per avere più scudo o altrimenti sì c'ha più shield quindi mettiamoci più scudo potremmo metterci più scudo potrei mettere altrimenti una mod che mi piace difensiva vigor per avere più 120% shield e di vita ma è una cosa molto secondaria secondo me la sopravvivenza con mag per esempio il motivo che spesso volentieri si è accompagnati da warframe che si aiutano a vicenda quindi mag pulla un frost difende tutti mesa fa tanti danni tu aiuti mesa prendergli l'energia e un drop e un altro warframe spesso volentieri fa tanti altri danni o comunque c'ha delle abilità per aiutare tutti mettiamoci in necros aumenta il drop rate e quindi noi guadagniamo molte più vita molta più energia siamo a posto spesso volentieri non mi sono mai trovato in difficoltà con questa build intensify per prendere un 30% di power strength ho detto che power strength non è particolarmente utile ok quindi anche intensify insieme a flow potremmo toglierla anche transient fortitude potremmo toglierla e cambiare mettere qualcosa di più utile vigor e redirection potremmo aumentare redirection vitality e vigor per fare una mag parecchio tank tempo fa io usavo la mag normale la mag normale con steel fiber per avere più armatura visto che l'armatura è parecchio è 65 non è altissima non è bassissima rispetto ad altri warframe ma è parecchio bassa secondo me come ho già detto non è essenziale secondo me fare un mag tank una mag tank scusate altre persone ho visto che usano natural talent per pullare più in fretta a me sembra che l'animazione del pull comunque non è così lenta come il desecrate di necros altre mod che potremmo mettere sinceramente non nessuna io mi ci trovo davvero bene così potremmo a alcune persone gli piace mettere blind rage ho visto in alcune build per fare parecchio danno ma ci tira via efficienza a me non piace avere come posso dire fare tanti danni ma costare tanto in energia anche se rimarremo sempre sopra il 100% ok di efficienza ma siamo un personaggio di supporto che ci frega di fare danni ok quindi questa è la mia build di mag prime non non è difficilissima da fare è una build che uso praticamente dall'inizio non ho mai cambiato niente un personaggio parecchio support quindi vi ritroverete a fare sempre 1 1 1 1 o 1 4 4 1 o nelle missioni coi corpus usare il 2 per togliere lo scudo a tutti i nemici e spesso volentieri ucciderli anche perché il 2 non l'ho detto ma crea quando si esplodono i scudi i nemici un'esplosione quindi si uccidono la vicenda spesso volentieri agli inizi e niente a me piace come warframe lo trovo utile per chi vuole iniziare lo consiglierei per capire un po' e vedere altri warframe fare diciamo sporco lavoro e capire un po' come funziona il gioco e vedere l'abilità e vedere altri warframe che magari ci potrebbero interessare ditemi voi come vi sembra la mia build a me sembra buona ovviamente non perfetta probabilmente c'è qualcosa da cambiare qualcosa che uno potrebbe migliorare ma io mi ci trovo davvero bene e ci tenevo a condividerla con voi consiglio alla fine di questo video un altro youtuber DesRPG da cui io stesso ho imparato parecchie cose che non sapevo quindi andate a vedere il suo canale in cui fa video di warframe da tanto tempo tantissimo ci gioca da tanto e quindi non vedo il motivo di negarvi questa conoscenza diciamo in particolare la serie in cui ha spiegato come buildare le armi principali secondari il melee i danni elementali status chance crit danni da critici tutte cose molto utili e che io non avevo compreso al meglio quindi lo ringrazio e spero di continuare questi video e ci vediamo alla prossima build ciao ciao ciao